In America viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnali al giorno. Un'aggressione ogni 25 secondi. 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 Ma perché ammucchi la roba così? Che pizza che sei! E lasciami, sei una frana! Chiama il cobra. Come si mette? Un casino, si sa chi è. Uno dei tanti paranoici schifati della vita. A che punto siamo? Sal, ciao. Per me non era il caso di chiamarti. E ci tengo a dirtilo. Grazie. Vieni. Avanti! Muovetevi! Sous-titrage stagenda. Allora. Apeute. Grazie a tutti. Stenditi a terra, tu non fiatare, e sta lontano da lei. Si, dai, zio. Ehi, io ti ammazzo, sbirro! Li massacro tutti! Sì, devo abbattere le strutture di questo sparco mondo! Com'è che non vedo le mie camere? Sta attento, ho una bomba, eh! Posso farli a pezzi? Fa venire subito la tv! Ho ristritto da tutti questi verbi! Hai capito? Così va il mondo oggi! Ma che aspetti, porco! Vado però, eh! Senti amici, li faccio una strage, è chiaro? Siete un bocchio di redame, merita del peggio! Morirete tutti quanti, capito? E questa vacca qui, ammazzo anche lei, capito? Prima me la faccio, e poi l'ammazzo! Anzi, comincia su! Mettiti giù! Sta a sentire tu! Sei uno schifoso! Solo uno schifoso! Hai già ammazzato la podera, così per questo! Ora è il momento di fare i conti! Sta attento! È una bomba questa! Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa? Vedi, ricalmarti, amico! Vuoi parlare? E parliamo! Io vado pazzo per la conversazione! Non voglio parlare con te! Fa venire le telecamere, lo sparo! E guarda che non scherzi! Non posso farlo! Perché? Non tratto con i maniaci! Vi metto al sicuro! Non sono pazzo, capisci? Sono un eroe! Hai davanti un vendicatore! Un eroe del nuovo mondo! Tu sei il male! E io sono la cura! Crepa! Tembo! Chiama il cobra! Ho! 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 E poi l'ammazzo! Anzi, comincia subito! Mettiti giù! Sta a sentire tu. Sei uno schifoso. Solo uno schifoso. Hai già ammazzato il tuo garage, così per tutto. Ora è il momento di fare i conti. Ciao!